Ancora un weekend di sangue sulle strade di Napoli, tragico incidente stradale domenica mattina alle 3 e mezza in Viale Kennedy a Fuorigrotta dove un ragazzo di 22 anni, Antonio Esposito, è rimasto ucciso e altri 5 centauri giovanissimi tutti tra i 17 e i 24 anni sono rimasti gravemente feriti. Secondo una prima ricostruzione fatta dai carabinieri di Bagnoli e dagli agenti della municipale i due scooter che trasportavano i centauri avrebbero impattato con un Audi che era in manovra per uscire da un garage. Il fondo, reso viscido dalla pioggia, non ha dato possibilità di frenata al primo scooter, quello su cui erano in sella la vittima e il suo compagno. Chi era alla guida ha provato a dribblare l'auto ma si è trovato di fronte una Fiat Panda parcheggiata illegalmente in seconda fila. L'impatto è stato tremendo e mortale. I due ragazzi sono stati sbalzati in aria, Antonio è caduto all'indietro sbattendo mortalmente il capo sul selciato. Stessa sorte per l'altro scooter che ha impattato contro l'autovettura sbalzando in aria gli occupanti. Uno di loro addirittura è finito sul tetto di un'auto in sosta. Immediati i soccorsi che sono giunti sul posto dal vicinissimo ospedale San Paolo ma per Antonio non c'era più nulla da fare. Gli altri ragazzi tutti feriti gravemente sono stati portati in vari ospedali cittadini. Per due di loro ferite gravissime al cranio. Un incidente che ripropone ancora una volta in città l'assenza di controlli per i centauri senza casco. Negli ultimi mesi a Napoli infatti sono di nuovo tanti, specie i giovanissimi, a non utilizzare l'elmetto salvavita. Ma soprattutto un altro gravissimo problema, quello dei parcheggiatori abusivi. In molti infatti si chiedevano sabato notte cosa sarebbe successo se i due scooter avessero driblato l'autovettura in uscita e non si fossero trovati davanti una colonna di auto parcheggiate selvaggiamente. Molto probabilmente sarebbero caduti o se avessero avuto fortuna sarebbero tornati tutti a casa sani e salvi. Tutti i fine settimana su Viale Kennedy e Viale Giochi del Mediterraneo sono tanti gli abusivi che rendono impossibile la circolazione e che spillano tra 3 e 5 euro per far parcheggiare auto in sosta selvaggia. Pochi mesi fa l'ennesimo blitz dei carabinieri ma nonostante l'azione repressiva in zona la situazione non cambia. L'illegalità continua a uccidere la decima municipalità e in questo caso anche giovani vite.